Ciao a tutti, lui è Orlando. Orlando è un cucciolino di beagle di sette mesi e proviene da un maxi sequestro che c'è stato nell'ultimo periodo. Quando è arrivato da questo maxi allevamento lui era molto più magro di quello che potete vedere adesso, aveva uno tite molto molto forte che abbiamo curato, era molto più timido. Nel giro di però pochi giorni ha capito che si poteva dimenticare di quello che ha vissuto e quindi è diventato un cagnolino veramente espansivo e coccolone. È un beagle quindi comunque ha bisogno di movimento, ha bisogno di una famiglia energica che le dia tanto amore, che lo faccia giocare e cerca appunto una casa. Se vi siete innamorati di Orlando, questo giovanissimo beagle, chiamateci. Orlando fa parte di un gruppo di canni sequestrati all'allevamento a casa luce nell'ottobre 2023 in provincia di Salerno e questo è stato, credo, il più grande sequestro di cani mai eseguito in Italia. Chi è entrato a casa luce ha raccontato di una totale mancanza di condizioni igieniche accettabili. Box privi di acqua e di cibo, pensate, e i cagnolini di piccola taglia in piccole gabbiette, tipo quelle dei conigli. E probabilmente Orlando faceva proprio parte di queste cucciolate. Il proprietario della struttura è stato ovviamente denunciato e oltre a dover rispondere di maltrattamento di animali, oggi ancora con le attuali normative che comunque prevedono una pena detentiva che arriva anche a 18 mesi, dovrà pagare un'importante multa di 100.000 euro e mi sembra davvero ancora troppo poco per un delinquente che ha fatto soffrire così tante creature in difese. Orlando ha vissuto situazioni terribili, se lo volete aiutare adottandolo chiamate al numero 339-63-4139-63-4139.